cinzia l'amica di oggi ciao stefania ciao ciao a tutti conto da 5 a 154 3 2 1 la vedo e la vedo su un'isola alle sue spalle vedo che c'è come una montagna che sembra un po piccolo vulcano comunque vedo che in origine era un vulcano comunque è così sul sullo sfondo proprio più lontano mentre adesso questa parte di spiaggia che però appartiene ad un'isola e ci dà l'autorizzazione ma è lei 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 l'uguale quella come adesso posso dire quell'isola cinzia si no vabbè no antico l'isola ma diciamo l'isola è quell'isola di che abbiamo detto e miso lona però tipo un'isola si è praticamente quello che mi mostra e dove vorrebbe andare come se lei ogni tanto in eterico si portasse già lì la ps la ps ok ne parlavamo prima l'esposizione dei punti ma voglio sapere cosa dice la mia ps come sapere cosa fa la mia ps la ps è cinzia quindi lei lo sa già nell'esposizione resto in italia con tutte le minchiate del cinivac non diciamo parolacce e o vado in questa isolona all'estero nei caraibi ma allora io vedo che lei è la visita spesso questa isola è come se fosse andata a sondare il terreno a livello energetico come se lei ogni tanto si portasse lì c'è già stata per vedere che frequenza come si sente lì proprio così quindi lei vedo che in realtà già deciso di andare ma già deciso il lavoro lei si chiedeva ma per la sua ps non è un problema questo nel senso che sa che lei è molto flessibile cioè che che lei è flessibile è molto adattabile e che è una persona dinamica determinata per cui non avrà non avrebbe problema nel momento in cui mettesse l'azione a trovare il lavoro la per le caratteristiche che a lei ecco ok vibrazione 85 miliardi consapevolezza 130 per cento psp a vedo 70 per cento grazie 30 vite precedenti mille 780 cervello 7,5 ci sono entità eteriche allora io credo con un animale un'entità che forma di animale per prenderla assume qua la forma di animale con sembra un grande coniglio in realtà non lo saprei catalogare all'interno delle delle specie che vediamo di solito grande coniglio è come se saltellasse cioè saltella non è fisso lì ma arriva poi va arriva poi va è come se fosse una un'entità eterica di quando era piccola questa che è arrivata quando era piccola ha preso questa macchina ne ha possiede allora vedo che c'è un rettile petto falconi forme rettile falconi forma misto in un ibrido ma più rettile metto poi e poi ne vedo altre dunque vedo un clone uomo però non lo vedo come uomo e poi vedo una un'entità un disincarnato basta chiamalo è un uomo un ragazzo può avere sui 35 40 anni ed è scuro di capelli insomma ma lei lo conosce o passava di lì si è attaccato a lei ma credo che l'abbia conosciuto come se fosse nella sua cerchia di conoscenze da che è nata da adesso e potrebbe avere più o meno la sua età più o meno c'è perché nei pressi cinza settimane mentre qualcuno me lo scrive nella chat così sei malo che idea capelli come visto che comunque un disi canato precedente una lettera no ma è però è mancato qualche anno fa però io lo vedo probabilmente si presenta per come è mancato e ai capelli castane scuri con una frangia leggermente messa su un lato era un vittore adesso mi mostra la tavolozza si insieme è una persona che tu conoscevi che dipingeva ok vabbè adesso questo tipo di ok va bene può essere lui è connesso a lei connesso nel senso se influisce se è legato beh penso di sì perché nel suo interferenza ma è legato a lei alla casa va legato è legato a lei è legato a lei è legato a lei affettivamente mi dice nel senso che lui vorrebbe proteggerla diciamo così cioè lui osserva che non le capiti niente cioè non che lui possa intervenire rispetto al fatto di non farle capitare niente ma diciamo che a quest'idea della protezione del fatto di dire non voglio che le capiti niente e affetti vedo che effettivamente è legato a lei spieghiamo subito una cosa così facciamo fuori tutto lo spiritismo dell'ottocento in un secondo già noi non capiamo niente da vivi non pensa non pensiate che da morti iniziamo a capire le cose cioè non capiamo niente prima non capiamo niente dopo quando abbiamo la possibilità di avere delle informazioni quindi di solito da vivi dovremmo un po approfittarne per accumularle così che poi da disincarnati uno si sa muovere eccetera quindi una persona che muore in giovane età come costui si attacca quello che ha il primo ricordo e cinzia si convince che è innamorato che deve proteggerla semplicemente perché non ha capito niente di quello che sta succedendo e perché la prima cosa a cui si può attaccare ecco a volte magari queste interferenze di disincarnati sono più strutturate quindi vanno per analogia e disincarnato gira e appena trova un'analogia con se stesso non lo so è morto di cirosepatica perché beveva viene attratto da chi beve e si attacca a chi beve era fan del calcio ed è rimasto schiacciato dalla folla sotto le tribune va spesso allo stadio e si attacca al primo che gli assomiglia come il temperamento quindi così funziona un po a caso un po senza una logica un po sempre con bassa consapevolezza sempre l'alta consapevolezza porta al disincarnato ad andarsene da qui e a capire che deve andarsene in qualche posto simile al potere ho perso la voce lucio non ti sto sentendo le aureo ti è perso per un attimo hai detto che chi è un'alta consapevolezza approfittiamo le dicevo apriamo portale aureo invitiamo questo 35 n a decidere se andare lì e svoltare o continuare a proteggere non si sa bene come cinzia così chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di cinzia e li invitiamo a entrare tranne quattro nonni e li invitiamo ad entrare nel portale aureo con la stessa modalità stanno arrivando molte stanno già passando e non ne sono lì a lato una parte ok quattro nonni diritto di parola a tutti chi vuole parlare ovviamente non mezz'ora l'uno messaggio paterne materne vede la nonna vedo una nonna che è più alta più alta dell'altra non vedo una nonna che potrebbe essere paterna mi dice e dunque a fianco a fianco al marito e poi le altre due sono alato e vuole parlare lei e poi il nonno materno mi chiedono di parlare allora questa nonna qua mi dice che la un commento sull'aspetto dice che a i capelli mi dice qualcosa dei capelli che ha i capelli come un parente un suo parente come se avessi capelli come sua mamma suo padre insomma questo commento e mi dice che le dice che contenta e contenta di vederla dice che non è stata più collegata alla terra ma che come se avesse girato è felice di essere stata chiamata che lei l'abbia chiamata e poterla rincontrare se ne vuole bene chiaramente nello stesso si collega il nonno il nonno materno e le dice come salutare sua figlia quindi sua mamma così dice che sta bene che stanno bene nessuno chiaramente passato poco oltre però anche questo nonno ma questo nonno materno e come se fosse rimasto un po ancorato io non so vedo un posto che sembra tipo una miniera comunque sembra un posto un po scuro ecco è contento di poter passare se finalmente dice esatto quel che volevo chiedere sono contenti di fare quello che stanno per fare se ne parla tra disincarnati di questo portale auguro sì 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 mi dice che molti lo sanno e molti lo vedono perché non vengono cioè non è che c'è un biglietto perché non vengono tutti e perché come se molti fossero ancora interferiti quindi fossero tirati a rimanere collegati alla terra o rimanere nel loro sogno e quindi come se venisse mostrato loro che questo portale realtà non è definitivo ma è un'altra condizione e non è e non è il passaggio definitivo per cui non sanno non hanno l'idea chiara di come sia poi di là perché chiedi la realtà non riporta la considerazione non ritorna indietro che è passato nel portale euro per cui non racconta no loro sanno che c'è che esiste perché avevano visto passare delle persone però le interferenze tante volte li tirano e tengono proprio stretti qua o loro si fanno tenere insomma qua collegati ok chi vuole aggiungere qualcosa no gli altri due nonni la salutano fanno così sono felici felici di passare e si tengono come a braccetto stretti con il nonno che ha parlato la nonna con il nonno e il nonno con la nonna che ha parlato così sono proprio a braccetto stretti benissimo risalutiamo e facciamo andare stanno passando ok abbiamo divagato sui disincarnati ma almeno abbiamo già trattato l'argomento torniamo alle entità in questo caso mentali sì allora vedevo prima che c'era un entità mentale che riguarda il raggiungimento degli obiettivi a causa di questa entità è come se ci fosse stato finora tanta progettazione quindi tanti desideri che delle volte sia anche scritta è però poi facciamo conto 10 desideri 5 raggiungere desideri c'è tanti di cui come se la parte più importante fosse il creare il pensare a quale desiderio vorrebbe raggiungere e poi invece nell'attuazione c'è stata poca programmazione e pochi passi concreti per arrivare agli obiettivi come se fosse molto proiettata sulla parte mentale della del pensiero ma meno alla parte dell'azione che numero è questa entità mentale e 4 però quando lei progetta e 4 quando lei invece deve realizzare e 6 come se si spostasse di livello poi e poi ne vedo un'altra ma questo rispetto ai bambini ai figli e c'è un impedimento come se ci fosse il dubbio del fatto di dire sono un buon genitore sono buona madre farò la sua felicità potrei aiutarlo essere un uomo felice questo figlio sul figlio prima era sui figli in generale sugli ipotenti sui possibili figli che avrebbe avuto e ora si è proiettato sul figlio per cui come se facesse un'azione verso il figlio quindi la pensa e sceglie di farla dopo che l'ha fatta ripensa se è stato giusto farla così quindi c'è questo doppio doppia resistenza indietro no numero livello 55 poi basta e dl ci sono no no c'è vedo no allora vedo che è come se all'interno del corpo c'è faccio questa distensione all'interno del corpo io vedo vedo degli impianti ad esempio l'entità l'entità di prima hanno alcuni dietro io li vedo come i lati mentre gli edl all'interno non ne vedo vedo e come se stessero più in casa se girassero più per caldo più per caso come se fossero dei messaggi che le arrivano le orecchie la funzione di questi edl però ecco fisicamente non li non li vedo vicino a lei abduction di una vista ma ne vedo una in particolare che quella che raccontava prima cioè che quel sogno che ha fatto prima io lo vedo una d'action vedo che ci sono state delle ad action in particolare adesso sono rare ma in particolare nel verso gli undici tra gli undici e sedici anni o perché è l'età dello sviluppo serviva loro uno studio rispetto a allo sviluppo il discorso di ormoni di sangue si e cloni uno e lo vedo uomo un clone ma vedo una forma una forma maschile impianti allora ne vedo uno collocato dietro il collo così un po a fascia ne vedo uno dove c'è la come dire la natica destra all'interno e poi ne vedo uno verso le anche che ogni tanto come se avesse avesse problema le anche l'articolazione insomma questa parte qua alcuni movimenti come se non scricchiolassero però come facessero dei tac dei crack insomma li sentisse interni e poi e poi ne vedo uno verso guardando bene all'altezza degli occhi come se fossero un visore un degli occhiali messi così no di quelli di stretto stretti insomma piccoli stretti basta nome del progetto su cinzia da parte delle interferenze allora vedo la scritta pr otti prossimi che significa sembra che sia un diminutivo una parte del nome di l'ideatore di questo progetto come fosse uno scienziato una chiamiamolo se lo vede chi è un uomo un uomo anziano alto tra po 155 160 sono più o meno dirla tanto la vedo che è basso basso perché come non è umano non è umano perché così basso io lo vedo umano è proprio basso proprio è un mese che ansia dice che siano un po bassi messicani aspetta vediamo un po no e lo vedo dalla dalle parti della tipo più americano in realtà in gioventù lo vedo anche solo 1 70 ma come se fosse un po lo vedo con le spalle le curve quindi si è un po a cartocciato su se stesso ed è che fa sui esperimenti gli studi vedo con lo vedo lo vedevo già prima con un camice bianco siccome noi vogliamo bene a tutti gli regaliamo un ad eterno sta correndo sta correndo cerca di scappare per non farsi prendere ma l'eterno l'eterno lo insegue la scena un po da cartone animato si permette l'ha inglobato è rimasto dentro la d'eterno va bene quindi italia o l'isolona isolona e questo l'abbiamo visto apriamo il cinema figlio compagno il figlio una perla adesso che l'hai chiesto si lo vedo è una delle 300 ma vedo che lui se si sta mostrando come una perla come la forma di una perla e il colore allora la perla è una persona con una ps che ha capito che alle informazioni per non farsi interferire da nessuna interferenza questo non significa che non entrino eccetera ma vengono eliminate le interferenze nel momento stesso in cui la ps della perla stufata scoccia si stufa diceva beh questa esperienza l'ho fatta le gestisce e c'è una sessione la 1111 no quattro volte uno la 1111 che proprio descrive questa parte la il figlio piccola una perla e usa le interferenze come dei giocattoli che hanno scritto sopra una data di scadenza quindi il trenino lo uso fino all'età di sei anni poi lo butto quindi il italiano mi interferirà fino a quei sei anni poi lo butto perché non mi serve più o se mi gira che lo voglio buttare prima lo butto prima cambia la data di scadenza sul trenino e la più giocattolo li usa come giocattoli come burattini sì quindi l'uomo non è più burattinato e l'entità il burattinaio ma diventa il contrario come dovrebbe essere alla fine il gioco è nostro dovremmo essere noi a decidere vabbè basta ho capito insomma 3 sa più anzi cambia nella stessa vita faccio altre esperienze sicuramente così sarebbe meno formativo più complesso più semplice meno complesso e anche meno profondo però anche meno doloroso il figlio è nel cinema il fine del cinema se lo vedo che è seduto su una sedia sta guardandosi un po in giro ma è lì da solo seduto da sola non ha nessuno vicino si sta guardando intorno curiosa il marito compagno anzi di cinzia che il padre del bambino c'è ma non è vicino al bambino ma come però si chiamiamo i genitori partiamo dalla mamma di cinzia molto religiosa sì la mamma c'è c'è anche il papà ok il papà ancora lo vedi affetto da quelle due malattie no io la vedo che sta bene e in piedi vicino alla mamma qua in eterico lo vedo che sta bene e la mamma devo dirti che è arrivata entrata ma vedo che è come se nascondesse avesse una catenina o nascondesse vedo un crocifisso lo nasconde sì perché so che so che l'intenzione no è come e come come per benedizione come voler venire dice vado e benedico tutti vado e non funziona come se la teneste non funziona così qua siamo anti religione di tutti i tipi quindi se lei viene viene per imparare e il crocifisso l'ho malla l'uomo alla casa o lo lascia cadere in un cestino visto che il suo posto cosa ho detto siamo lo stato laico posso dire quello che voglio e secondo è così e basta quindi può tranquillamente stare fuori dal cinema nessuno la obbliga è solo stata invitata a benedire ma proprio no a parte che mi faccio una grande risata che dura fino alla fine della sessione ma poi anche no è ospite non si entra nel cinema con le intenzioni di benedire il mondo se lei chiede se c'è una sala d'aspetto ma che poi se pensate benedire ma che vuol dire dire bene chiudere benedire c'è l'entità che poi è il tuo dio verso la quale tu ti rivolgi e io ti benedico e non mi benedirò sì benedicimi urbi e torbi che cazzo vuol dire ci rendiamo conto che magari vediamo delle scene in televisione non lo so in india di ganesh di cali e pensiamo anche selvaggi poi vediamo delle scene in africa del totem diciamo anche selvaggi e non ci vediamo quanto siamo selvaggi noi cioè benedire cosa dove non è solo una questione di logica perché noi non siamo logici in quello che noi facciamo non è logica ma ci rendiamo conto ci vediamo da fuori come ci potrebbe vedere un africano un indiano pelle rossa un indiano dell'india benedire che vuol dire ti sei voluto bene ti sei guardato allo specchio un'ora guardate allo specchio un'ora chiediti chi sono io la creatura di dio no quello scemo che ha inventato questa roba quindi madre sì o no perché se c'era una sala d'aspetto cioè per aspettare fuori il marito ok ob out of body experience esce dal corpo è successo e cinza si è spaventata molto ma allora io vedo che lei ha fatto diversa esperienza no appunto di quelle che citavano di anche di sogni lucidi vedo e vedo che è arrivata allora metodo degli step no vedo che ha superato il primo livello quindi di fare esperienza ma vedo anche che come se per entrare nella dimensione sogno e gestirlo cioè non come come il sogno lucido modificarlo quindi decidere vedo che ci sono diversi livelli e lei è come se avesse creato una resistenza per non andare avanti nell'esperienza e lo vedo lo vedo che l'ho fatto lo vedo che reale però vedo che si è creato una resistenza per non andare avanti nell'esperienza per non proseguirla per non evolvere in quell'esperienza per cui quando lei poi si era sentito si è spaventata voleva urlare non è riuscita vedo che è come se non diciamo che era un secondo livello che doveva superare legge castaneda e sogna di essere bloccata è quello quello che appunto stavo dicendo da come da come mi sembra vi è raccontato praticamente leggeva castaneda rispetto ai sogni lucidi tipo l'arte di sognare e quindi ha fatto ha superato il primo livello nel senso che lei è arrivata a fare un sogno e lucido però è come se vedo nei sogni lucidi ci fossero diversi livelli e c'è come una barriera come un velo tra una cosa e l'altra e vedo che lei si è fermata al primo per cui si è creata una resistenza per non andare oltre ok siccome devo parlare di quella macchina io non posso dire il nome del signore che ancora in vita però è quello dei numeri c'è un percorso spirituale che lei compie insieme a una cerchia di suoi amici riguardante sia il discorso numeri di questo signore se al discorso macchina che gestisce le frequenze e che viene costa anche un bel po di soldi e che viene acquistata in gruppo da lei e dai suoi amici lei sulle prime sente degli effetti poi resta incinta e quando è incinta del bambino la famosa perla di cui abbiamo appena parlato sente la prima volta che lo usa col bambino in grembo sente il bambino muoversi e non belle sensazioni andiamo lì allora io vedo lei mentre fa questa 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 cosa questo macchinario e lo vedo incinta allora vedo che l'effetto che ha avuto dopo quindi il bambino che si è mosso e se si è girato e poi una grande nausea vedo che è stata una protezione del bambino che ha fatto su se stesso e sulla mamma è come se questo macchinario posso dire entrasse in frequenza con la parte energetica di standard ma quando si è incinta sia il proprio campo energetico il campo energetico del bambino quindi è come se il macchinario oltre a influenzare lei avesse anche il compito essendo in funzione di variare anche le frequenze del bambino e il bambino ha fatto a come avesse spinto come avesse buttato fuori l'interferenza del macchinario proprio a livello di frequenza no quindi posso posso un po allargare il campo come dire che quando appunto una donna incinta al suo campo energetico che si compenetra col campo energetico del bambino per cui sono due campo energetici ma ne formano uno e quando si si fanno delle pratiche anche anche per dire le campane tibetane insomma no che sono comunque una frequenza tutto quello che frequenza che si pratica quando si è incinta forse io dico andrebbe sospeso perché perché non sai il campo energetico del bambino come reagisce per cui in questo caso c'è stata proprio una spinta come dire no il bambino ha avuto una reazione col campo energetico che ha risuonato quel campo energetico di lei della mamma per cui non gli è piaciuto quello che stava sentendo ma la macchina è valida ma cosa serve la cosa fa la macchina io la vedo come se fosse una una il vento una parola come a cui acutizzasse acquizzasse la frequenza del pensiero della persona quindi se una persona ha un intento chiaro no ma soprattutto non interferito la macchina li permette di aumentare come dire la frequenza mentale o dell'intento e raggiunge no ma se una persona ha un intento che legato a un interferenza la macchina va ad aumentare questa interferenza quindi e come fosse un catalizzatore un vado aumentare quello che c'è già però se c'è una cosa positiva l'aumenta se c'è una cosa negativa l'aumenta quindi di fatto dipende da chi la usa ok lei quindi è stata spinta a non usarla più non chiedo da più a quelli del gruppo perché questa decisione di la suggerita a chi questa decisione è arrivata dalla piesta del bambino a non dalla sua no no il bambino ha rifiutato ha mandato il messaggio alla ps sua però è partita da da suo figlio ok però quando lei l'utilizzava non da incinta c'erano interferenze ma io direi lei aveva delle interferenze però il macchinario di per sé è come avesse un valore neutro come avesse un valore neutro se chi lo usa e in un certo modo molto bene se chi lo usa in un altro modo molto male per cui lei poteva avere delle interferenze prima però se il suo intento era chiaro era pulito allora poteva stare per provare delle sensazioni di benessere di realizzazione no per cui andava ad acutizzare da quello che c'era in quel momento come consapevolezza come stato mentale fisico ok quindi lasciamo perdere ma soprattutto lei ne ha bisogno riorganizzare le sue frequenze aumentare la capacità di raggiungere un determinato intento e di conseguirlo non sono già tutte caratteristiche dell'essere umano dotato di anima perché è una macchina al posto dell'anima perché non esercitare l'anima anima vicinzia di darci una risposta batti un colpo a diciamo che si sono già tutte competenze capacità dell'essere umano però c'è chi non pensa di poter arrivare lì allora siamo conto che lei e il suo gruppo di persone ha comprato questa macchina e nessuno pensava prima di poter accedere a questo livello prima di utilizzare questa macchina perché non era consapevole che si potesse fare ora lei l'ha fatto adesso alzerà le frequenze insomma attraverso la sessione facciamo conto che però non lei non avesse avuto accesso alla sessione insomma non non avesse conosciuto no insomma te avendo fatto quell'esperienza a entrata in quello stato no a cosa è potuto servire a capire che si può arrivare fin lì allora si può allenare la ps finché si arrivi da sola no diciamo così è un po come dire prendo come dirci un ascensore posso salire fino al decimo piano non pensavo di poterci salire va bene ora capisco che ci sono anche le scale o che magari c'è un altro modo per arrivare quindi non devo più prendere quello strumento lì cioè come avere creato consapevolezza che esisteva anche quello no no però di base l'essere umano ha la capacità di fare da solo se crede di poterlo fare va bene mio pia si c'è causa esoterica e all'intanto vedo legato quell'impianto lì di prima che davanti agli occhi però vedo anche che come fosse anche legato un aspetto emotivo no vedo che legato una paura che la paura di mettere a fuoco c'è la paura quello che gli è nato già qualche anno fa questo problema qua come se ci fosse stato un evento che lei ha vissuto dove doveva vedere chiaramente una situazione ma mi sembra affettiva e lei ha avuto paura di non di vederla chiaramente cioè come se la ps le avesse rimandato dei messaggi ma lei non ha voluto vedere concretamente e le rimasto come questa mancanza come questa mancanza come dire come dire come questa informazione che vedere chiaramente può essere doloroso scoprire le cose può essere dolorosa per cui è come se le fosse rimasta questa parte che non funziona bene dietro alla decisione che aveva preso penso che risalga non so cinque sei anni fa sette anni fa spalla allora non ci vedo una cosa vedo qua che c'è una familiarità rispetto a questo problema come se fosse anche in famiglia potrebbe essere suo padre dalla parte paterna come se vedessi che è un problema che c'è nella famiglia del padre questa cosa anche fratello se il fratello la vive c'è a questa cosa no lei lo dice proprio c'è una correlazione quindi tra fratello lei e i padri detto no si si vedo che dalla parte paterna c'è questa parte c'è questa cosa che è comune potete endire un po delle lussazioni questa parte qua ne vedo comune per cui per familiarità e penso anche il fratello sì che potrebbe sempre la causa è sotto il rica non ho capito no no vedevo la familiarità per cui che arriva dalla però è come se ci fosse un po più la necessità di rafforzare mi dice così la psd rafforzare la presa come ti come fosse legato a alla ferrare al decidere io voglio questo prendo questo no lo vedo appunto è legato alle spalle la spalla destra in particolare però come se la causa la vedessi rispetto all'azione del del io voglio io voglio io tengo io voglio io prendo quella cosa lì voglio quella cosa lì e la prendo come dire la tengo stretta me ce l'ha arrivo a raggiungerla a raggiungere l'obiettivo ea tenerla ferma la vedo molto legata a questo in effetti l'informazione che che mi arriva di suo padre che anche suo padre ha avuto la famiglia di suo padre un po non c'è stata la capacità di aggiungere le cose gli obiettivi e tenere strette a se le cose guadagnate se attualmente stitichezza causa esoterica ma prima quando l'ha nominato io ho visto praticamente come dei semini come se ogni tanto le venisse voglia di mangiare io adesso vedo un frutto le venisse voglia di mangiare un certo alimento che però le dà quell'effetto io vedo dei semini faccio un esempio tipo i fichi d'india tipo delle cose che hanno dei semini all'interno duri che ogni tanto è come se lei li mangiasse non per forza tipo di india però che lo vedo legato a un alimento un tipo di alimento questa questo problema qua niente di interferenza anziché si va bene controlliamo anche la casa un attimo sì sì no dico cinzia che chiede delle fa delle domande specifiche questo adesso lo valuterai tu la visione eterica va bene ma non è la legge se noi noi chiediamo vieni fuori che sono le pere non sono le mele tutti i fissi che sono le pere magari sono le mele è molto più sensato che tu fai delle prove mangi solo le pere non succede mangi le mele succede sulle mele no mangi solo delle cose specifiche e lo scopi così l'intolleranza si calcolano cioè si scoprono soprattutto in questo modo casa a posto la casa posto ok nel cinema il figlio il compagno che fanno il figlio è rimasto seduto si guarda intorno ed ondola un po il piede il piede destro fa così cioè fa così col piede ma è molto curioso poi oltretutto è molto osserva molto le persone che sono lì vicino che sono all'intorno non parla non ha girato non ha corso osserva osserva quello che sta succedendo ma è molto tranquillo invece il compagno lo vedo che sta chiacchierando con dunque col papà e col papà di lei niente stanno chiacchierando proprio stanno sono detto scusami è fissato non ho capito dal figlio col padre sì il compagno chiacchiera col colore va bene è giunto il momento di andare al cluster per cinzia sì allora quello che si presenta è praticamente come fosse una mensola grande fosse in un negozio con tante conchiglie di quelle di quelle conchiglie un po arrotolate insomma che hanno viene il nome e non la spirale ecco tante conchiglie di quelle all'interno cerco ci sono i contratti che cosa fa sta buttando via tutto ma arrotolando come se fosse un poster e poi lo butta via sta buttando via tutto portale definitivo ad eterno un cuore questa faccenda lo sta proiettando con le mani così ha messo bene auto sì ti vedo ne vedo ma come ce ne sono due comunque il suo lo vedo lo stiamo vedendo ha buttato via tutto anche qua subito all'eterno ma che qua l'ha pensato e l'ha fatto stavolta l'ha pensato ed era lì l'ha creato subito ok va bene con questa nuova condizione l'entità mentali eteriche il progetto prot il clone uomo e le abduction con numero variabile esiste ancora qualcosa di tutto questo no è pulita 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 ok la casa è sempre a posto se la decisione di andare all'estero è sempre è sempre la stessa sì 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 ok la elaborerà poi nel mentale nel fisico è che da stasera fa le valigie e valuterà anche in quel questa è la visione eterica anche le informazioni che noi prendiamo in eterico come per esempio quello che crea e genera l'allergia la setichezza vanno interpretate vanno capite vanno prese con le molle sono delle indicazioni delle vie a volte sono molto precise a volte no quindi non dipende da dalle capacità questo giorno della medium che sono valide domani no perché stanca o o ai suoi pensieri no perché a volte la visione eterica è una visione indicativa no quindi magari adesso è un grande sì ma potrebbe essere un'altra isola ma sardegna che ne so potrebbe essere anche un altro paese più vicino potrebbe essere tra tre anni perché c'è bisogno quindi non è che è ma no nella sessione abbiamo detto che andava bene no abbiamo detto delle cose che poi vanno adattate alla tua vita tuo compagno a tutta una serie di questioni no no sia a un'indicazione ascoltate alla fine sempre e solo voi stessi queste sono indicazioni utili valide senza le quali probabilmente non avreste questa queste queste rotaie ecco ma il treno e vostro il viaggio vostro ha bella questa immagine una rotaia che però la rotaia manda in una precisa direzione che la rotaia che poi finisce nulla e poi si va da soli direzione è stata data quindi l'idea non è male ecco questo è quello che io trarrei l'idea non è male poi uno valuta una serie di cose si è giusto si si non fa me nuova frequenza 190 miliardi consapevolezza e da 180 per cento psp 52 per cento la psa 48 la psa vite precedenti 1720 cervello 8,5 messaggio finale della ps della pie cinzia a cinzia punto allora dicono che dicono cinzia che in particolare rispetto al suo ruolo di madre a l'idea che avevano che è che è importante che che lei si si prenda cura di suo figlio no come come lei come la sua idea la cosa la cosa che lei si può ricordare è che anche lui c'è la ps ce l'hanno entrambi tutte e due sono portatori di conoscenza no e di esperienza per cui di anche a far sì che anche lui possa insegnare delle cose a lei cioè di non essere diciamo solo centrata sul fatto del dover insegnare portare conoscenza al figlio ma anche di mettersi nella nella condizione nell'ottica che man mano che cresce ma già da adesso lui è le da dei messaggi le manda dei messaggi e le può insegnare delle cose che a lei servono che lei stanno stanno già servendo e quindi di essere tranquilla rispetto al suo ruolo di madre in particolare di star serena di essere di vivere con gioia questa maternità ecco che può vivere con gioia questa maternità basta è per esempio chiesto sulla solita missione motivo per cui scesa esiste una risposta vedo che la ps dice che la missione la missione di una vita è una cosa che si crea piendo i pasti è come se noi pensassimo di essere arrivati per arrivare fino ad un certo punto ma invece come se la ps mi dice invece di capire qual è la tua strada la strada è quella su cui sei no e ogni passo contribuisce a formarla quindi se tu decidi di andare a sinistra quella è la tua strada e la proseguono e lì ci sono le cose che servono a te se decide andare a destra lo stesso non è che se è solo destra ciò che deve incontrare la missione che devi fare in base a dove sei tu puoi trovare la tua strada insomma quella è la tua strada dove già hai ai piedi poggiati ci sono vite precedenti in cui cinzia conosciuto già il figlio e il compagno vedo ne vedo una dove ha conosciuto il figlio che era un suo padre quindi il suo figlio era un suo padre di una vita precedente era la figlia femmina non era insieme lei il figlio e il compagno non è la stessa esistenza non è questa colpa il compagno insieme ti faccio un'altra domanda il compagno la fiamma no gemello lui dice di sì si vede di sì gemella anima gemella non la fiamma e lei e tu sì sì vedo che no vedo che sono anime gemelle però non li vedo uniti come quando vedo le fiamme che si che ruotano però le vedo anime gemelle entrambi si sono scelti ok ultimissima domanda amer 5 leggi biologiche e si avvicinata compreso meglio qualcosa diciamo relativo alle malattie sì o no alla piessa ne sta dicendo che che sì ma che ha per a lei è servito per accedere a delle informazioni e soprattutto poter capire come funziona lei poter lasciare più spazio e la sua parte intuitiva per capire cosa la riguardasse dice che il capire cosa ci riguarda è molto più semplice che studiare dei testi o studiare delle possibilità questa la mia pia è legato a dice che noi siamo per noi stessi siamo di molta più semplice comprensione no quindi ti è stato un punto di partenza un buon punto di partenza però mi sta dicendo di lasciare di accantonare lasciata lasciare stare qualunque testo questo non è messaggio per tutti ma per lei qualunque testo quindi di sgombrare qualunque cosa è partire da da adesso a sentirsi a sentire se stessa no allora delle cose che sente possono anche essere simili a quelle che magari detto amer però di incominciare a sentire da sola a sentire da sola che quella è la strada più semplice dice ma questa è la prendere come insegnamento per tutta la sua vita insomma ascoltare se stessa sì molto molto bene come la vedi allora la vedo sorridente la vedo che ha fanno la loro energia e insieme come se fossero all'interno di una stessa sfera energetica non sfera come confine ma comunque nella stessa luce come se lui lui e lei avessero questa luce in comune se va bene padre e madre che fanno bella madre no madre che fa il padre continua a parlare con quel suo compagno che dicono allora stanno parlando delle loro cose delle loro vite e anche stanno commentando quello che hanno visto ma proprio come se non si fossero mai parlati prima come se si stessero conoscendo adesso in questa occasione per la prima volta il figlio che fa guarda lui ha deciso che che osserva ha deciso è molto osservatore anche non in eterico sì sì la mamma l'ha scritto durante la sessione che è un grande osservatore se si sta lì guarda e poi magari tira fuori tira fuori delle frasi la mamma dice ma mamma fa è così però osserva magari sta anche quarto d'ora vento mezz'ora e guarda guarda e dice no cosa starà pensando le sue cose no sta proprio guardando guardando e collega delle parti si accumula informazioni consapevolezza informazioni e la traduce in consapevolezza va bene abbiamo finito porto a tornare sì